Leonardo! Ezio? Che fortuna! Io ho avuto un piccolo contrattempo. Vediamo se posso aiutarti. So come aggiustarlo, ma da solo non ci riesco. Ce la fai ad alzare il carro? E questo cos'è? Eh? Pare un pipistrello gigante. Oh, nulla. Un'idea alla quale sto lavorando. Non potevo lasciarla indietro. A che serve? Ebbene, non è ancora il caso di parlarne. Al diavolo! Non ce la faccio a trattenermi. Ezio, credo di aver scoperto come far volare un uomo. Avanti, su. Guido io. Ma non ti ho nemmeno detto dove sto andando. Venezia. Che città magnifica! Così tante fonti di ispirazione. Il ponte di Rialto, piazza San Marco, l'arsenale. Che accade? Non siamo soli. Ma che succede? Chi sono? Uomini di Rodrigo Borgia. Perché? Che vogliono da noi? Credo ci vogliano morti. Nasconditi, presto! Cercano di salire a bordo! Falli cadere! Attento a non rovesciare il carro sul lato! Ezio, qualcuno è salito! Fate le curve strette per far inclinare il carro! Quasi le curvelle. Torni, altissimo! L'armi di un tempo e non neccano. Che c'azuratino? Che cazano di la bordo. Che cazano. Che cazano di un eserato. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.